buonasera a tutti spero che mi sentiate benvenuti nell'aula virtuale iniziamo quindi questo questo brevissimo corso su quella che sarà in realtà un'infarinatura sulla privacy e i problemi legati alla cyber sicurezza in nel mondo sanitario innanzitutto mi mi presento brevemente dopo di che vi darò alcune informazioni tecniche io sono stefania tonucci sono laureato in giurisprudenza quindi non sono un tecnico perciò vi chiedo scusa se magari dalla mia bocca stasera potranno uscire degli strafalcioni esiterò di dirgli ovviamente e ho un dottorato in diritto e nuove tecnologie e con degli skill molto particolari nel campo sanitario e da parecchio tempo mi occupo di privacy sanitaria di sicurezza e come come ben vedrete nel corso di di questa lezione anch'io mi sto interessando molto a quello che è il tanto discusso gdpr quindi questo nuovo regolamento europeo sulla privacy che diventerà obbligatorio in realtà è già entrato in vigore e quindi sarà applicato nel maggio del 2018 io comunque sono qui stasera ripeto per darvi non solo un'infarinatura e fornirvi una panoramica di quelli che sono i problemi e i rischi di sicurezza nella sanità ma anche per farvi riflettere e farvi capire quanto in realtà dietro questo questo mondo dietro queste complicazioni queste anche burocrazie contrattuali e legislative in realtà ci siano dei ragionamenti e degli addempimenti che sono molto più semplici e che vi faranno riflettere anche al fine di ottimizzare le vostre eventuali attività lo capirete però nel corso della della lezione dunque innanzitutto qui appunto di seguito alcune istruzioni se eventualmente la linea internet non dovesse essere sufficientemente veloce basta che blocchiate il video in modo tale che ci sia un fermo immagine della mia immagine e continuate a seguire la mia voce in caso di uscita dall'aula per qualsiasi motivo è sufficiente non sarete disconnessi è sufficiente ripetere appunto la procedura di login con il vostro indirizzo email con cui vi siete registrati e la password e molto importante è la chat noi utilizzeremo il servizio della della chat durante la lezione o magari anche alla fine quando quando preferite potete farmi delle domande utilizzando appunto la chat in basso a sinistra sullo schermo e io vi vi risponderò e magari cercheremo anche di condividere insieme le osservazioni nel corso nel corso della lezione quindi direi che prima di cominciare io avrei bisogno di di sapere più o meno di che cosa vi occupate ovvero sia se siete degli studenti se magari avete qualche attività nel mondo sanitario o eventualmente anche in altri settori magari sempre nell'ambito della delle nuove tecnologie o magari siete dipendente o lavorate all'interno di una struttura sanitaria sia essa pubblica o privata e questo mi serve per capire non solo il taglio della della lezione da dare ma anche per mio interesse personale capire quanto questa problematica è sentita se i partecipanti di stasera saranno particolarmente variegati ben venga perché capirete che questa è veramente una tematica che si ottica a 360 gradi bene quindi siete tutti ah beh insomma bene bene perfetto quindi gran parte si occupano di altri settori sempre nel campo delle nuove tecnologie bene allora direi che possiamo andare avanti e quindi iniziare con con la nostra con la nostra lezione allora perché perché io vi parlo di cybercrime i cosiddetti cyber crimini cosiddetti tanto sentiti cyber crimini dobbiamo fare un passo indietro e cioè come mai sono diventati così importanti come mai se ne parla tanto se ne parla tanto perché in realtà tutto il nostro sistema economico della nostra della nostra società è passato da un sistema basato sul valore della moneta ad un sistema basato invece sul valore dei dati i dati i dati sono il nuovo petrolio sono il nuovo oro nero della nostra società sono appunto questa nuova ricchezza dell'era dell'era digitale il bene che tutt'oggi viene più scambiato al mondo in particolare poi vedremo che saranno i dati sanitari e quelli a a fare più 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 gola al giorno d'oggi si parla della famosa dittatura dell'algoritmo provate a pensare queste nuove città stato che si sono create all'interno di stati veri e propri quando io alludo a città stato alludo per esempio a google alludo a facebook alludo ad amazon sono delle realtà diventate esse stesse degli stati con delle regole proprie perché perché se noi dovessimo pensare ad una piattaforma come google oppure anzi facciamo la più semplice ad uno strumento come facebook all'interno di facebook io ho una condivisione di dati una mole di informazioni cosiddetti big data enorme e appunto all'interno di questa piattaforma io ho questo flusso enorme di dati che viaggiano nel mondo del digitale senza alcun tipo di controllo e quindi con tutte le relative problematiche del caso e ora sicuramente il problema del cybercrime vi ripeto è un problema molto sentito proprio perché tutt'oggi il valore dell'informazione ha assunto un vero e proprio valore economico e perché in realtà i crimini informatici sono così difficili da definire io qui nella slide ho cercato di darvi una definizione molto semplice la prima appunto viene data da questo dalla dalla dottrina questo chrome il quale ha definito i crimini informatici appunto come delle attività illegali che appunto comprendono una vasta gamma di reati perché comprendono la violazione del diritto d'autore la violazione della privacy abbiamo anche tutti i cybercrime nell'ambito della pornografia della pedopornografia abbiamo appunto i cybercrime nell'ambito sanitario quindi è un fenomeno veramente molto vasto è un fenomeno criminale che fondamentalmente si sostanzia nell'abuso della tecnologia informatica e le due grandi categorie in cui possono essere distinti questi crimini informatici sono appunto o i crimini che hanno come obiettivo diretto le reti digitali e computer oppure i crimini facilitati dalle reti digitali adesso con degli esempi pratici capiremo di di che cosa di che cosa stiamo parlando innanzitutto vi ho inserito qui alcuni alcune statistiche la prima tabella è relativa al rapporto clusit del 2017 il clusit si occupa fondamentalmente di tecnologia di sicurezza e appunto tutt'oggi anche di cyber sicurezza e come potete vedere rispetto agli anni precedenti c'è diciamo stato un trend estremamente positivo verso l'alto quindi una crescita di crimini informatici nel settore health quindi nel settore salute nell'altra tabella si vede la stessa identica cosa tra il 2014 e il 2015 il settore dell'health care è stato come dire fortemente colpito da questa tipologia di crimini ora diciamo che ci sono diverse ragioni per cui come avevo preventivato prima ad essere maggiormente colpito è il settore della salute e questo fondamentalmente è dovuto a diversi motivi vi faccio un esempio molto banale provate a pensare a una grossa struttura ospedaliera sanitaria privata pubblica è indifferente che al suo interno ha dei soggetti ricoverati che possono essere dei personaggi famosi dal calciatore che deve operare al ginocchio o che magari scopre di essere malato di HIV al politico di turno all'attrice all'attore famoso che decidono di che ne so ricoverarsi in questa struttura per magari ricorrere ad una procreazione medicalmente assistita bene allora queste persone si recano all'interno di questi ospedali questi ospedali hanno dei data basis dove vengono inseriti i dati e le informazioni inerenti a queste persone voi provate ad immaginare un hacker che si introduce all'interno di questi sistemi in modo illecito ruba tutte le informazioni che sono contenute all'interno di tali sistemi e ovviamente viene a scoprire delle informazioni che valgono oro perché perché magari può decidere o di offrire queste informazioni al miglior offerente che potrebbe essere una testata giornalistica o il fotografo più famoso del mondo o magari ricattare questi personaggi e dire magari al calciatore tizio guarda che se tu non mi paghi tot io diffondo sul web l'informazione e la notizia che tu magari sei ammalato del virus dell'HIV per esempio oppure magari diffondere la notizia previo ricatto che l'attrice tal dei tali si è sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica voi provate a pensare che valore può avere un'informazione del genere è per questo che io vi dico che l'informazione personale il dato personale sono diventati l'oro nero dell'era del digitale perché perché un attacco di questo genere al di là dei danni morali che può provocare provate a pensare ai danni economici perché perché poi è ovvio che nel caso in cui si verifichi un attacco di tali portate la responsabilità cadrà ovviamente sulla struttura sanitaria che non si è diciamo strutturata in modo tale da avere tutte quelle misure di sicurezza atte a garantire anzi ad evitare un possibile attacco da hacker come vedremo più avanti gli attacchi hacker al di là del famoso ransomware di cui ve ne parlerò fra poco ce ne sono già stati nel mondo nel mondo sanitario ma vi parlerò di altri ed ulteriori esempi successivamente intanto facciamo un altro sondaggio voi avete mai sentito parlare di attacco informatico nel senso sì perché ne siete stati coinvolti oppure non ne avete mai sentito parlare oppure magari adesso come adesso ne avete veramente le scatole piene di cybercrime e quant'altro anche questo è importante più che altro per capire come ragionano come ragionano i cittadini come ragionano gli utenti proprio perché influenzati dai media perché perché adesso vi spiegherò e scoprirete che in realtà di cybercrime se ne parla da tantissimo tempo da tantissimi anni negli stati uniti ecco sì e sono stato coinvolto in azienda fantastico benissimo e come vi dicevo negli stati uniti adesso appunto lo vedremo nella prossima slide questa è in realtà attacchi di cybercrime i cosiddetti cyberattacchi addirittura cyber omicidi ce ne sono stati e come se ce ne sono stati e non di certo qualche anno fa ma addirittura se non sbaglio cinque se non più forse quasi dieci anni fa intanto io qui vi ho appunto elencato e vi ho descritto un tipico esempio di cyberattacco nel mondo sanitario ecco una una partecipante ci scrive sì per un virus che mi ha bloccato il computer e ho dovuto portare un tecnico sì esatto sì perché per cyberattacco in realtà si può diciamo quando noi parliamo di cyberattacchi parliamo anche di attacchi che sono dovuti ovviamente da che cosa da dei virus è chiaro che questi virus sono stati insinuati da qualcuno che sta a monte come vedremo adesso vi spiegherò soprattutto negli ambienti di lavoro indipendentemente che si trattino dati sanitari sensibili in qualsiasi tipo di azienda molto spesso questi virus vengono introdotti inconsapevolmente dagli stessi lavoratori dipendenti attraverso magari apertura di mail in feste o magari utilizzando whatsapp con quelle famose catene di sant'antonio o magari perché dalla mail di lavoro aprono un messaggio che è arrivato dalle poste italiane lo aprono e sbadatamente installano un virus che va ovviamente ad intaccare l'intero sistema informatico di tutta l'azienda questi come vedremo più avanti sono degli errori che possono essere tranquillamente evitati come li evitiamo li evitiamo predisponendo a monte delle policies adeguate dei regolamenti interni aziendali adeguati che siano strutturati appositamente per questa tipologia di attività quasi delle linee guida delle linee guida che ovviamente devono diciamo rispettare determinati parametri ora dicevamo ecco esatto quello della polizia postale sì 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 sono proprio degli attacchi tipicamente diciamo diffusi polizia postale catene di sant'antonio da whatsapp oppure molto molte volte arrivano messaggi da per esempio pseudo banche che chiedono di riconfermare l'iban e poi mi è capitato in certe situazioni anche di dover per esempio affrontare come dire attacchi cyber attacchi ad aziende le quali si sono ritrovate a pagare delle fatture errate vi spiego meglio molto spesso in azienda per esempio aziende che lavorano spesso con l'estero che cosa succede io azienda invio al mio cliente la fattura in file pdf il cliente molto spesso si vede ricevere la fattura originale da l'azienda di stefania che gli ha inviato il pdf può capitare anzi capita tantissime volte che successivamente il medesimo cliente si vede recapitare una mail con un indirizzo ip uguale identico al mio dell'azienda dove gli viene detto c'è stato un cambio di iban pregas di effettuare il bonifico di tot al seguente iban bancario in realtà questo è un attacco informatico viene chiamato un attacco di phishing molto spesso perché perché fondamentalmente il cliente inconsapevole va a fare il bonifico nell'iban scorretto che generalmente è un iban che ha sede in paesi tropicali in paradisi fiscali eccetera eccetera che molto spesso si trovano dall'altra parte del mondo di conseguenza il cliente va a pagare la fattura ad una persona sbagliata e non vedere capitarsi la merce e io titolare di azienda non mi vedo pagato per il servizio che ho offerto o la merce che ho venduto molto spesso questo questo tipologia di attacchi anch'essi possono essere evitati semplicemente andando a predisporre delle misure di sicurezza che possono per esempio consistere anche nell'esitare di inviare delle fatture in pdf e predisponendo dei link appositi dove poter scaricare la fattura quindi questi sono proprio degli esempi che vi fanno anche comprendere di come in realtà di cyberattacchi ne siamo praticamente inondati è chiaro che come vedrete in questa slide un tipico esempio famosissimo di cui ne aveva parlato anche i media è questo attacco del ransomware no il ransomware è un malware quindi un tipo di virus informatico che viene diffuso distribuito via mail e che limita l'accesso del dispositivo che infetta cioè vuol dire che fondamentalmente mi blocca tutto richiedendo quindi un riscatto da pagare che generalmente deve essere pagato in bitcoin per rimuovere la limitazione e in parole povere che cosa era successo vi ho qua inserito degli articoli che sono recentissimi no il cosiddetto virus wanna cry che chiede il riscatto ospedali britannici in tilt ancora pirateria informatica attacco hacker in corso in tutto il mondo chiesto un riscatto in bitcoin nel momento stesso in cui questo virus viene diciamo sbadatamente sbadatamente installato succede che mi si ammerisce lo schermo fondamentalmente e io non posso più utilizzare gli strumenti a mia disposizione quindi si bloccano totalmente i computer compare il nero compare il buio il pirata informatico ci avverte con dei messaggi dicendoci guarda che se tu non mi paghi tot non potrai più utilizzare i mezzi informatici tuoi aziendali immaginatevi che cosa può succedere con un attacco del genere all'interno di un ospedale dove fondamentalmente tutt'oggi tutte le strutture sanitarie funzionano con le tecnologie la stessa sala operatoria è diventata iper tecnologica e non solo provate a pensare anche a tutti i dispositivi che sono dispositivi mobili che sono collegati al sistema informatico del sistema ospedaliero e che tuttavia vengono controllati a distanza ad esempio li vedremo più avanti i macchinari le pompe che vengono inserite per il cuore i braccialetti per poter controllare la pressione a distanza del paziente tutti i sistemi utilizzati per la telemedicina nel momento stesso in cui questi sistemi vanno in tilt che cosa succede questi pazienti non sono più sotto il controllo dei medici quando io vi parlavo di attacchi informatici che in realtà sono già stati sono già avvenuti sono all'ordine del giorno soprattutto negli stati uniti è perché parecchio tempo fa fece scalpore un caso degli stati uniti d'america in cui un pirata informatico in realtà non era un pirata informatico era una persona il cosiddetto smanettone quello che noi lo definiamo tale si come dire era riuscito ad uccidere una persona perché perché si era diciamo inserito illecitamente nel sistema informatico del personale sanitario dell'ospedale e aveva bloccato la pompa del cuore artificiale che era appunto controllato da questo sistema in questo modo il cuore di questa persona controllato a distanza è andato in tilt e l'ha ucciso questo è un tipico esempio di cyber crime anzi di cyber omicidio in sanità un omicidio a distanza non solo moltissimi hacker si si divertono e questo per il momento è successo solo negli stati uniti non solamente a rubare dati personali all'interno di un sistema operativo quindi tutte le informazioni dei dati sensibili ma vanno anche a creare dei danni nel corso per esempio di un'operazione all'interno di una sala operatoria magari bloccando l'attività di questa sala operatoria che come vi dicevo oramai dipende totalmente dalla tecnologia c'è una domanda che che ci viene fatta a quali conseguenze va incontro il dipendente che aprendo la mail personale in orario di lavoro installa uno di questi virus e comprometti i dati aziendali allora è molto semplice io ve la scrivo ma ne parliamo insieme le conseguenze sono di vario tipo sono di vario tipo nel senso che innanzitutto l'azienda è in sostanza quasi sempre responsabile allora voi dovete partire da questo presupposto e cioè che la giurisprudenza italiana è varia purtroppo quindi i giudici non la pensano tutti allo stesso modo possiamo seguire quella che è la giurisprudenza maggioritaria quindi quello che decide decidono con i giudici nella maggior parte dei casi innanzitutto l'azienda che sia essa sanitaria sia essa un'azienda normale può tutelarsi predisponendo un regolamento che sarebbe il vecchio dps un regolamento aziendale all'interno del quale deve fondamentalmente scrivere le istruzioni da impartire al dipendente nel quale all'interno di queste istruzioni si dice si è pregati di non aprire link sconosciuti si è pregati di non utilizzare e non installare l'account di posta personale sul computer aziendale nel caso in cui il dipendente apre la propria mail personale in orario di lavoro lì è il problema nel senso che se il dipendente è dipendente di un'azienda che ha predisposto delle corrette linee guida allora in questo caso va intorno al dipendente perché se io sono dipendente dell'azienda Rossi e l'azienda Rossi mi ha fatto sfumare un regolamento nel quale mi si prescriveva che io non dovevo utilizzare l'account mio personale di mail nel luogo di lavoro sono io dipendente che sono un torto e quindi magari posso andare incontro a delle responsabilità di magari risarcimento danni nei confronti dell'azienda se invece l'azienda non ha predisposto delle misure adeguate allora in questo caso potrebbe o rispondere nell'azienda in toto oppure a volte potrebbe esserci anche una suddivisione una situazione di cosiddetta corresponsabilità e quindi una suddivisione delle responsabilità al 50 e al 50 qui dipende, bisogna valutare caso per caso però come vi dicevo prima e come vi spiegherò a breve è assolutamente fondamentale che l'azienda, la struttura che mette a disposizione questi mezzi tecnologici predisponga anche delle corrette linee guida un regolamento e si adotti delle misure che non devono essere solo minime di sicurezza ma anche delle misure idonee di sicurezza e in questo il nuovo regolamento europeo sulla privacy aiuta molto allora io qui in realtà vi ho già spiegato perché spesso vengono colpiti gli ospedali attraverso questo virus perché magari vengono utilizzati dei dispositivi medici che hanno una struttura, un regime di sicurezza molto debole perché magari all'interno di un ospedale non c'è molto controllo perché io ho bisogno ad esempio in situazioni di emergenza di accedere immediatamente alle informazioni nella fretta il fatto di avere delle password che mi bloccano lo schermo dei link ai quali collegarsi e a loro volta altri link che rimandano e così via può comunque portarmi a perdere del tempo e io magari in una situazione di emergenza non ho assolutamente tempo ripeto di sottostare a tutte queste limitazioni senza contare che soprattutto adesso con la riforma sanitaria che c'è stata sono state diversificate molto le attività di un ospedale e sono stati come dire vengono utilizzate delle procedure standard per curare per esempio i pazienti cronici quindi le situazioni croniche di conseguenza proprio per definire delle prese in carico per il malato le policy sono molto più ristrette questo ci può aiutare ci può aiutare perché noi proprio seguendo le policy per esempio le PDTA siamo come dire più agevolati nel costruire delle policy di sicurezza di privacy e di responsabilità che siano più stringenti anche se mi rendo conto ripeto che all'interno di una struttura sanitaria o magari di che ne so un'azienda che per esempio produce dispositivi indossabili o produce degli arti artificiali è particolarmente difficile predisporre queste policy non dobbiamo dimenticarci che nel momento stesso in cui questi prodotti quindi come dire usciamo dall'ambiente ospedale inseriamoci all'interno per esempio dell'ambiente aziendale poniamo caso che siamo un'azienda che produce ad esempio non lo so gli orologi gli orologi quelli che ci consentono che ne so di misurare la pressione o produce quei dispositivi i microchip che vanno appunto installati per il controllo degli arti artificiali quindi della mano, della gamba eccetera eccetera con le nuove normative che entreranno in vigore ci sarà una forte responsabilità anche a carico del produttore del software di conseguenza se il produttore del software il produttore del programma il proprietario quindi di questo programma di questo software di questo macchinario non si adegua predisponendo le misure tecniche e le misure di sicurezza necessarie nel caso in cui si verifichi un omicidio un episodio di hackeraggio anche qui si può avere una situazione di corresponsabilità proprio perché soprattutto alla luce dell'applicazione del nuovo regolamento europeo avremo una condivisione di responsabilità che non saranno più solamente a carico del titolare del trattamento ma anche del responsabile del trattamento e degli eventuali subresponsabili quindi questo vuol dire che tutta la catena dei fornitori e dei subfornitori verrà coinvolta all'interno di questo processo come si può risolvere questo problema lo vedremo lo vedremo a breve quindi all'interno del riquadro come potete vedere ho scritto che la maggior parte degli attacchi sono un risultato di un errore inconsapevole quindi il risultato non intenzionale di azioni dei dipendenti ad esempio azioni di click a link malevoli apertura di allegati alle mail o cattivo utilizzo ripeto dei dispositivi medici proprio perché mi rendo conto che molto spesso gli stessi tecnici che si trovano a dover controllare a distanza questi dispositivi magari non sono stati sufficientemente formati mi rendo conto che sicuramente può essere un problema quindi come vi ho detto nel concreto all'interno degli ospedali all'interno di strutture che utilizzano tutte queste tecnologie gli orologi siano essi dispositivi medici o meno tutte le tecnologie RFID i tablet i software che vengono utilizzati all'interno di aziende o di ospedali per diciamo monitorare il laboratorio come vengono regolate le analisi del sangue e così via abbiamo visto che quindi ormai la tecnologia invade la società in generale soprattutto sanitaria allora RFID è allora fondamentalmente questo RFID è un acronimo è un acronimo che sta fondamentalmente ad indicare tutte quelle tecnologie è un acronimo inglese RFID sta per Radio Frequency Identification cioè sono diciamo quella tecnologia che viene utilizzata in tutti i campi ma soprattutto nel campo sanitario che fondamentalmente funziona come una sorta di di tag di scanner cioè io come dire utilizzo questi strumenti per leggere una sorta di codice a barre questi codici a barre vengono letti attraverso delle onde radio che fondamentalmente riescono ad attraversare tutte le tipologie di materiali questi diciamo queste onde vengono come dire inoltrate ad un lettore questo lettore legge questi codici i codici dopodiché vengono inoltrati ad un dispositivo che è collegato è un po' una sorta di etichetta intelligente questi questi sistemi di RFID li trovate per esempio non lo so sono fondamentalmente i vecchi codici a barre questo sistema per esempio lo trovate in molte etichette del vino perché questa tecnologia viene utilizzata molto spesso quando come strumento per l'anticontraffazione adesso è previsto che questo tipo di tecnologia verrà utilizzata per esempio anche dalle case di moda per bollare per etichettare le borse gli abiti le scarpe tutte le tipologie di accessori in modo tale che esse non possano venire copiate ancora sarà previsto in un futuro molto molto vicino l'utilizzo di questa tecnologia per esempio controllare gli ingressi e le uscite delle zone a traffico limitato e infine questa tipologia di RFID viene utilizzata anche nel campo sanitario perché perché un esempio di tecnologia RFID in ambito appunto medico sono i microchip sotto pelle questi microchip sotto pelle vengono diciamo costruiti vengono prodotti sulla base di queste tecnologie ora io non entrerò nel dettaglio perché altrimenti andiamo veramente in un altro mondo perché sull'RFID ci sarebbero tantissime cose da dire c'è anche stato un provvedimento del garante per la protezione dei dati personali che ha emesso determinate istruzioni per le aziende che producono questo tipo di tecnologia perché come ben immaginate attraverso questi lettori attraverso questi tag io sono in grado di ricevere di leggere e quindi di creare un flusso di informazioni che nel caso medico sono informazioni ipersensibili e quindi estremamente delicate quindi come potete vedere questa tecnologia ormai è pervadente ora vi dicevo quali sono le soluzioni a portata di mano soluzioni a portata di mano sono per esempio nel caso in cui siamo delle aziende che per esempio producono dispositivi medici o per esempio orologi altri strumenti che possono essere annoverati nella cerchia dei cosiddetti medical devices possiamo utilizzare delle linee guida che sono state emanate dalla Food and Drug Administration la Food and Drug Administration è fondamentalmente il corrispettivo il corrispondente dell'agenzia del farmaco italiana la Food and Drug Administration è invece un ente americano che è un misto fra quello che è la nostra AIFA agenzia del farmaco e il nostro ministero della salute è un'organizzazione appunto molto potente che va a regolare il commercio la messa in commercio la messa in produzione di farmaci dispositivi medici tutto quello che riguarda non solo non solo i medicinali ma anche ovviamente il cibo e appunto questa FDA che è americana come vi ho scritto qui nell'ottobre del 2014 ha avesso delle linee guida strettamente dedicate alla cyber sicurezza dei medical devices al momento della produzione e quindi prima della commercializzazione la cosiddetta fase di pre-market e recentemente nel dicembre del 2016 sono state pubblicate delle analoghe linee guida anche per la fase di post-market nell'ottica di garantire questo adeguato livello di protezione da quelle che sono le fasi iniziali dello sviluppo quindi una volta che è stato immesso nel mercato fino poi al supporto post-vendita e quindi anche qui troviamo delle diciamo sono previste anche delle attività di assistenza ecco perché vi dicevo che è molto importante che la stessa casa di produzione del software si adegui anzi si prepari ad attivare delle misure tali che le consentano di tutelarsi perché? perché comunque se a livello contrattuale è prevista un'attività di assistenza del prodotto apparirà chiaro che nel caso di malfunzionamento del prodotto o nel caso di cyberattacco sarà responsabile la stessa casa produttrice del software nonostante le case americane tendano a diciamo inserire nelle clausole contrattuali soprattutto quelle che stipulano con gli ospedali delle forti limitazioni di responsabilità tuttavia è possibile anzi è assolutamente necessario adeguarvi perché comunque si stanno notando notevoli incrementi di case italiane che producono software medici di conseguenza è necessario proteggere anche i nostri connazionali tutti devono proteggersi in qualche modo in America quindi si può diciamo dalla legge americana si può prendere spunto da queste linee guida in Italia invece che cosa abbiamo abbiamo il nostro codice privacy che a maggio del 2018 verrà totalmente sostituito dal cosiddetto GDPR e quindi dal regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali l'acronimo è cosiddetto GDPR entrambe queste norme la parola chiave qual è? la parola chiave è la messa in sicurezza se io predispongo delle attività e delle misure tali che mi consentano di mettermi al sicuro posso sicuramente prevenire il danno ora prima di proseguire facciamo un altro sondaggino e cioè forse applicare il risk security cycle che adesso vedremo che cos'è ed è fondamentalmente una messa in sicurezza una serie di attività guidate da un consulente esperto che ti consentano appunto di mettere in sicurezza quella che può essere la tua azienda e la tua attività una messa in sicurezza che prevede e va a toccare non solo le semplici attività tecniche le semplici attività produttive di filiera ma va a diciamo analizzare così come previsto dal nuovo regolamento europeo anche tutte le attività connesse marketing attività dei lavoratori dipendenti responsabilità come vengono utilizzate come viene utilizzato internet come vengono utilizzati i dispositivi elettronici ecco il 75% legge che effettivamente un risk security cycle nella propria realtà è sicuramente importante sì è molto importante ed è anche un un'attività come vedremo adesso continua cioè non è un'attività che ha sicuramente un fine e un inizio però deve essere mantenuta come si può fare per mantenerla adesso ve lo spiego questo è il cosiddetto risk and security cycle un ciclo un ciclo di attività che ecco scusate leggo una domanda io lavoro nella scuola il volume è più sicuro dipende non c'è una risposta anche nella scuola vengono trattati tipologie di dati che sono anche dei dati sensibili perché immagino che voi all'interno della scuola abbiate per esempio certificati medici informazioni sanitarie sugli studenti informazioni sulle famiglie quindi si tratta di dati molto diciamo complicati senza contare che adesso con il famoso registro elettronico ci sono molte restrizioni e non solo provate a pensare all'utilizzo per esempio dei social network da parte degli alunni durante le ore di lezione oppure la pubblicazione delle foto di eventuali feste di eventuali eventi quindi c'è un problema di privacy che sicuramente non è da non è da escludere sicuramente all'interno di una scuola non si andrà a fare un cosiddetto risk and security cycle tuttavia bisognerà preparare e predisporre come vedremo adesso le famose linee guida quel famoso regolamento interno che consente alla scuola agli insegnanti di tutelarsi in qualche modo di de-responsabilizzarsi che consente agli alunni di avere maggiore consapevolezza nell'utilizzo di questi strumenti e tutela anche in un certo senso i genitori sicuramente all'interno di una scuola sia esso un istituto superiore una scuola media una scuola elementare il rischio e il security cycle non sarebbe fattibile tuttavia l'applicazione di queste poche direttive di queste linee guida effettuate da una persona ovviamente competente sono assolutamente indispensabili perché ripeto bisogna partire dai mattoncini non si può pretendere come si suol dire di guidare una Ferrari se si è neopatentati prima è necessario partire da dei mattoncini che ci consentano di costruire le fondamenta una volta che noi abbiamo le fondamenta allora possiamo partire il registro cloud è sicuro sì è sicuro ma dipende se ci sono delle polisi contrattuali alla base che l'hanno regolato in modo sicuro perché ovviamente questo l'insegnante non è che lo può sapere a monte dovrebbe esserci la scuola che dovrebbe come dire capire se sono state predisposte tutte le regole per poter avere un registro cloud sicuro vi faccio un esempio sono capitati degli episodi di hackeraggio anche a cloud le foto di quella famosissima attrice che erano contenute nel cloud sono state hackerate sono state rubate da un hacker chi mi dice che magari un hacker o uno studente particolarmente bravo del campo dell'informatica non riesca ad accedere al cloud e magari andare a manipolare tutti i dati del registro il registro cloud dovrebbe essere sicuro ma bisogna capire se alla base del registro sono state implementate le misure di sicurezza necessarie quindi è quello il discorso che vi ripeto l'importante è quello che sta alla base quindi dicevamo questo risk and security cycle comprende diverse fasi abbiamo una prima fase di pianificazione dove fondamentalmente io azienda dico bene io effetto faccio questa e quest'altra attività cosa è sicuro cosa non è sicuro che tipologia di dati tratto che tipologia di strumenti informatici uso come sono allocate le mie risorse dopodiché passiamo ad una seconda fase che è la fase della pianificazione e quindi di una rilevazione dello scenario attraverso una ricognizione di tutte quelle che sono le componenti del sistema informativo terza fase predisposizione di un documento di relazione finale io in un certo senso ho effettuato una gap analysis cioè questo tipo di attività generalmente viene fatta da un informatico da un esperto di tecnologie affiancato da un giurista o comunque da un consulente che abbia appunto determinate competenze loro due insieme effettuano questa gap analysis dove fondamentalmente vanno a sviscerare la struttura aziendale in particolare quella informatica per capire quali possono essere i gap quindi i buchi vanno a diciamo scrivere una relazione questa predisposizione del documento finale dove vanno a scrivere quelli che possono essere gli interventi e le misure di sicurezza da adottare ne parlano con l'azienda ne parlano con il cliente e si effettua quindi un'implementazione delle misure di sicurezza e quindi si va ad operare dove è necessario senza dispendio economico e di tempo perché molto spesso può capitare che una stessa azienda sia dotata effettivamente di misure di sicurezza ma magari non se ne accorge magari non ha le competenze o le risorse che siano in grado di capire se queste sono misure di sicurezza diciamo adeguate o meno in tutto questo l'attività di formazione è fondamentale formare il personale fare dei corsi di formazione per i tecnici per i non tecnici in modo tale da renderli più consapevoli degli strumenti che usano i costi di queste attività generalmente sono pagati dall'azienda e sono pagati dalla struttura in questo momento io vi posso confermare che ci sono moltissime aziende che si stanno appunto preparando a queste tipologie di adeguamento e pagano delle consulenze per poter diciamo rendersi cosiddetti in inglese si dice compliant cioè fondamentalmente per essere a posto e per prevenire eventuali attacchi perché vi posso assicurare a me sono capitate molte situazioni in cui le aziende mi hanno chiamato dopo hanno chiamato me o comunque altri miei colleghi si sono svegliate dopo l'incidente vi posso assicurare che le spese post incidente sia di tipo processuale che di tipo tecnico non hanno nulla a che vedere con le spese rigorosamente e molto inferiori di quelle che può avere un tipo di consulenza o di preparazione di questo genere quindi in sanità come applico tutto questo applico attraverso appunto questo nuovo modo di interagire le varie figure professionali devono interagire fra di loro devo ovviamente rispettare da un lato quelli che sono i diritti in questo caso del paziente del cittadino nella gestione dei propri dati e dall'altro devo rispettare tutte quelle linee guida che ci vengono date e soprattutto rispettare la legge la legge che è questa e cioè la il cosiddetto GDPR cioè come vi dicevo questo nuovo regolamento europeo introduce come dire dei principi principi che possono essere applicati vi ripeto a qualsiasi tipo di azienda siano esse sanitarie siano esse altre tipologie innanzitutto come vi dicevo prima un nuovo concetto di responsabilità e cioè ad essere la cosiddetta accountability ad essere responsabile non è solamente il titolare del trattamento ma anche il responsabile stesso il responsabile stesso che ovviamente dovrà rispondere direttamente al titolare di tutto il suo operato in primis il cosiddetto titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire come dice questo articolo ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente ma successivamente a risponderne è lo stesso responsabile che viene designato da quello che può essere il titolare ora mi dispiace perché in questa sede purtroppo non abbiamo il tempo e poi l'orario non è diciamo come dire adeguato ma non abbiamo il tempo di come dire illustrare quelle che sono le figure chiave privacy voi magari non non so se riuscite a capire la differenza che c'è fra titolare e responsabile qui in questa sede vi do degli accenni ovviamente sono sicuramente sarò disponibile in futuro ad effettuare magari ulteriori delucidazioni che vadano più nello specifico come vi dicevo all'inizio questa è un'infarinatura generale l'importante è che voi non usciate troppo confusi da questa lezione da questa chiacchierata quindi nuova responsabilità ed è per questo che tutti i protagonisti devono dotarsi di misure adeguate per in qualche modo de-responsabilizzarsi poi i famosi registri dei trattamenti e mi ricollego a quella famosa gap analysis io devo avere tutto scritto cioè io devo tenere al mio interno un registro di tutte le attività di trattamento attività di trattamento che devono diciamo elencare che cosa chi sono chi svolge cosa quali sono i dati che tratto quali sono le attività che faccio per quale finalità le faccio io esercito finalità di marketing io esercito finalità di cura della salute io esercito attività e quindi volte alla profilazione e così via dopodiché questo registro del trattamento che si presuppone sarà di tipo elettronico dovrà ovviamente contenere tutte le informazioni inerenti anche ai dipendenti dell'azienda i dati che trattano i dipendenti dell'azienda i diversi compiti e così via questo registro dei trattamenti non è altro che il famoso vecchio DPS documento programmatico della sicurezza che oramai non è più obbligatorio ma fondamentalmente tornerà ad esserlo di nuovo con il nuovo regolamento europeo ancora il data breach perché il data breach è così importante e perché si ricollega al cyber crime perché perché in caso di violazione dei dati personali e quindi di possibile anche attacco hacker il titolare del trattamento dovrà andare a notificare una violazione dei dati personali entro le 72 ore esempio l'ospedale tal dei tali subisce un attacco hacker per cui qualcuno si insinua all'interno del registro del personale sanitario oppure delle cartelle cliniche manda in tilt tutto il sistema io ospedale ho in giro per il mondo i dati di tutti i miei pazienti cosa devo fare? sono ovviamente obbligato a farne denuncia entro le 72 ore al garante e ovviamente ne risponderò perché ne risponderò perché il garante mi dirà per quale motivo tu ospedale o azienda o struttura ti sei diciamo sei stato un bersaglio così facile di un attacco di un cyber attacco per quale motivo tu non avevi predisposto le misure di sicurezza minime necessarie per evitare questa tipologia di attacchi ecco perché vi ripeto che quello che è importante è la preparazione a monte quindi anche questo è una svolta al cosiddetto data breach che diventerà dal 2018 obbligatorio ancora il concetto come vi dicevo prima di privacy by design e privacy by default cosa vuol dire? vuol dire avere l'architettura privacy e security perfetta o quasi perfetta alla base iniziare a costruire i mattoncini prevenire non correggere i problemi vanno valutati nella fase di progettazione la privacy le misure di sicurezza deve essere un'impostazione di default la privacy deve essere incorporata nel progetto quindi deve esserci una diciamo messa in sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto del servizio qui ci dice qualcuno beh se sarà reso obbligatorio dalla UE allora questa dovrebbe anche erogare i finanziamenti per la compliancy sì e no perché perché alla base di questa strutturazione ci sta il data protection officer e qui sta la svolta e stanno i dubbi la figura del cosiddetto DPO la figura del cosiddetto data protection officer è obbligatoria in tre casi specifici ovvero se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico oppure le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di particolari categorie di dati cosa vuol dire che nel caso di aziende che trattano dati sanitari la presenza del data protection officer sarà obbligatoria questo data protection officer che cosa dovrà fare vediamo se sapete rispondere questo data protection officer fondamentalmente dovrà fare molte cose e in teoria mi ricollego all'osservazione che ha scritto uno dei nostri partecipanti dovrebbe essere una figura che andrà ad interporsi a fare da tramite fra l'azienda per cui lavora e il garante per la privacy l'autorità garante purtroppo il nostro garante non si è ancora espresso sulla tipologia di contratto che dovrà avere questo data protection officer di conseguenza non si sa se questo data protection officer bravissimi avete imparato avete capito la lezione quindi di conseguenza non si sa ancora purtroppo il ruolo a livello contrattuale a livello assicurativo che dovrà avere questo data protection officer c'è chi dice che sarà una figura che appunto verrà finanziata da borse e da fondi europei c'è chi dice che dovrà essere una figura che invece verrà diciamo stipendiata dalla stessa struttura c'è chi dice che invece dovrà essere una figura che dipenderà da delle società di certificazione ma la certificazione non esiste ancora la certificazione ufficiale e quindi stiamo ancora nel marasma sicuramente quello che sappiamo è che no non sarà un'altra domanda sarà l'ennesimo consulente esterno no no perché in realtà il data protection officer sarà una figura ibrida cioè potrà è previsto anche che possa essere un consulente interno perché perché se quel data protection officer dice il nostro regolamento il regolamento europeo ha quelle qualità e quelle caratteristiche che gli consentono di lavorare e di fare queste cose che vi ho elencato in questa slide con professionalità e competenza potrà essere anche un interno sta nell'ente sta nell'azienda a valutare se sarà necessario assumere una persona esterna o una persona interna sicuramente questo data protection officer dovrà effettuare tante cose e di conseguenza dovrà anche avere tante competenze quindi non sarà un consulente esterno può essere sia interno che esterno l'importante è che svolga un ruolo cosiddetto super partes perché non deve entrare in conflitto di interessi perché lui se vede un trattamento anomalo all'interno dell'azienda per cui lavora lo deve denunciare quindi anche lì bisogna stare molto attenti perché si tratta di una definizione di ruoli abbiamo un'altra osservazione stiamo parlando di tanti soldi necessari per mettersi in regola entro maggio 2018 ma ancora prima delle misure minime di sicurezza come convincere a erogare fondi eh lo so purtroppo le nostre figure vengono sottovalutati siamo considerati come un peso e non sempre riceviamo le dovute attenzioni sì è vero purtroppo è così ma io sono anche consapevole che le competenze e l'expertise paga nel momento stesso in cui una persona è in grado di offrire le proprie competenze di dimostrare proprio che in realtà la preparazione e l'adeguamento sta alla base e quindi bisogna iniziare da questi famosi scusatemi la ripetizione mattoncini è assolutamente fondamentale effettuare questo allora in questo caso chi sarà meritevole riceverà le dovute attenzioni è chiaro che viste tutte queste attività stiamo parlando di una persona che deve essere molto formata deve avere molte competenze e soprattutto anche settorializzata il data protection officer dell'ospedale Pinco Palla non potrà mai aver fatto prima il data protection officer di un'azienda come la Ferrari parliamoci chiaro dovrà essere nel caso della Ferrari una persona che ha lavorato all'interno di aziende simili alla Ferrari nel caso dell'ospedale Pinco Palla dovrà essere una persona che comunque avrà delle competenze di tipo sanitario purtroppo vi ripeto in questo stiamo ancora nel marasma perché il nostro garante privacy non ci ha ancora dato non ci ha praticamente ancora dato risposte e in questo caso quello che vi posso dire è appunto questo questo come dire passaggio passaggio di responsabilità che vengono in un certo senso distribuite non solo più sul titolare sulla figura del titolare che quindi detta in soldoni può essere il proprietario dell'azienda non è proprio così ma per farvi per rendervi l'idea c'è appunto si è verificata questa distribuzione di responsabilità fra il titolare il responsabile e anche il data protection officer è chiaro che il data protection officer salvo rarissimi casi che sono prescritti dal nostro dal regolamento europeo non dovrà mai rispondere a livello penale o amministrativo perché perché a livello penale amministrativo ne risponderanno sempre il titolare e il responsabile ora quindi che fare in realtà ve l'ho già detto bisogna partire dall'inizio partire con quella famosa diciamo con gli strumenti che ci vengono dati partire da una certa consapevolezza che ci consenta di capire che cosa abbiamo di fronte che ci consenta di capire come utilizzare i dispositivi che ci consenta di poi successivamente capire se possiamo ricorrere o meno a degli strumenti ulteriori che non sono solo quelli legislativi ma sono anche quelli di accerchiarci di competenze di expertise che ci consentano quindi di essere guidati in questa preparazione e soprattutto in questo mantenimento di quelle che sono le misure di sicurezza per evitare problemi ed attacchi come quelli che vi ho diciamo elencato io spero di essere di essere stata non noiosa spero di essere stata anche chiara mi dispiace avrei voluto dire tante altre cose però è un mondo enorme un mondo enorme e sicuramente quello che vi posso come dire consigliare è andare a cercare di capire tutto quello che sta dietro il nuovo regolamento europeo perché non è solo burocratese ma vi sono anche molti incentivi per le aziende l'importante è saperli cogliere grazie a tutti è stato veramente un piacere a presto buona serata grazie